Musica Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quenti Channel Oggi sono qui con questo nuovo video e siamo in tema Halloween Guardate qua il mio personaggio Come potete vedere sto usando il mio personaggio principale E quindi non sto usando Phonix Qua ho 231 rango tutti sudati ragazzi Questo è il mio primo personaggio che ho creato su Playstation 3 E ho giocato su Playstation 3 con questo personaggio E poi l'ho trasferito su PS4 E questo è il mio vero personaggio Quindi ragazzi se volete potete anche inviarmi la richiesta di amicizia qua Perché utilizzerò spesso questo personaggio Soprattutto adesso che devo fare soldi eccetera Quindi preferisco farli sul mio personaggio principale diciamo Comunque sia se accedete online potrete sbloccare le magliette esclusive di Halloween Tipo questa qua che c'ho io e poi ce ne sono anche altri eccetera Allora in questo video andremo a provare la nuova modalità competizione Angeli contro demoni E iniziamo subito Eccoci qua Beati contro dannati Allora siamo 3 contro 3 Perfetto Perfetto Allora pronto a giocare Dai non vedo l'ora Ancora non ho capito come funziona questa modalità Azione vittoria Mettiamo dito medio Dai Adesso uno è entrato nella mia squadra Quindi saremo 4 contro 2 Che cazzo è bu Vabbè vediamo un po' Ok siamo gli angeli Guardate qua No vabbè La faccia di culo abbiamo come maschera No bellissimo Allora tu fai parte della squadra angeli Elimina i demoni Ok Perfetto Perfetto Dove stanno i demoni Attenzione mi vibri il joystick Cazzo Ecco c'è un demone C'è un demone Ok Perfetto Perfetto Ok quindi a quanto ho capito Se siamo gli angeli Che cazzo è raga Sto brillando Guardate là Comunque se siamo gli angeli Abbiamo le armi Invece i demoni non ne hanno Perfetto Perfetto Guardate qua ragazzi Sto per volare in paradiso Bellissimo Vediamo un po' Dove sta l'altro Dove sta l'altro demone Guarda che si nasconde Che camper ha qua dietro Dove sei Dove sei Dove sei Dove sta Salve Demone Attenzione Che cazzo vuoi fare Ah demone Merda Ok Ora è notte ragazzi Si inverte il gioco Adesso noi abbiamo Soltanto un'ascia Ok si è invertito il gioco Adesso Adesso è il turno Dei demoni A farci fuori Merda Bellissima Comunque Ok Nascondiamoci ragazzi Un po' come Lo slasher Comunque dobbiamo Sempre eliminare i demoni Quindi Rimaniamo da angeli Proprio Vediamo un po' Allora Guarda là c'è un demone Guarda là c'è un demone Aiuto Comunque ragazzi Guardate che ambientazione Guardate il clima fuori E' veramente particolare Si è parlato da tempo Ok se Rimaniamo fermi Comunque Veniamo rilevati al radar Dicevo Si è parlato da tempo Di un clima Per Halloween Come per esempio A Natale Esce Il clima Uh Attenzione Il clima Con la neve Invece Ad Halloween Dovrebbe uscire Il clima Proprio Adatto A Un'atmosfera Horror Ora non so se questa cosa Uscirà ufficialmente Perché la Roxar Non ne ha parlato Però questo clima E' stato trovato Nei file di gioco Adesso non si sa Se magari Il giorno preciso Di Halloween La Roxar Rilascerà Per esempio Questo clima Soltanto per il giorno Di Halloween Oppure No ragazzi Non lo so Oppure Era soltanto il clima Che faceva parte Di questa modalità Competizione Eccetera Non saprei sinceramente Però ovviamente Se ci sono notizie Vi porterò sul canale Intanto Continuiamo ad essere Gli angeli Noi eh Bellissimo comunque Questa modalità Anche se Devo essere sincero Preferisco Lo Slasher Lo Slasher E' più bello E' più adrenalinico Guardate ragazzi E' questo il clima Trovato nei file Di gioco Guardate Merda Comunque questo qua Ragazzi E' il clima Trovato nei file Di gioco Ora Potrebbe Essere soltanto Per la modalità Questo clima Oppure il giorno Di Halloween Potremmo avere Soltanto questo clima In sessione Guardate che figata La luna La Veramente bellissimo Sarà Fighissimo Vedere qualcosa Del genere Ma il cararmato Lo posso prendere Minchia Lo posso prendere No sto scherzando Comunque Non vedo l'ora Di vedere il giorno Di Halloween Su GTA Online Perché può darsi Merda Uscirà Quel tipo di clima In sessione Non lo so Secondo round Siamo sempre Gli angeli Noi eh Quindi Finiremo La missione Da angeli Gli angeli Possono ottenere Punti solo di giorno I demoni Solo di notte Se uno degli angeli E' ucciso Da uno dei demoni Durante il giorno O un demono Ucciso da un angelo Durante la notte La sua squadra Perderà Ok Allora troviamo Sti demoni Guardali che camperano Tutti Intanto qua Fosforescente Sta diventando Il mio personaggio Dove siete Dove siete Intanto mi vibra Il joystick Eccolo eccolo Dove cacchio Vuoi andare Guarda là Guarda là Quello Guarda quello Che ha ucciso L'angelo Gli angeli Non si toccano Saliamo qua sopra Comunque Bella trovata Questo Mi piace soprattutto La notte Quel clima Proprio horror Io spero che La Rockstar Games Rilasci quel clima Che cazzo vuoi Rilasci quel clima Il giorno di Halloween In sessione Eh guarda quello Che campera Là dietro Volevi Ma che armi abbiamo Ah abbiamo Tutte le armi Quasi Perfetto E io che stavo Usando solo La carabina Guarda un po' Questi angeli Con le armi Proprio Ok rimaniamo Nascosti dietro Il carro armato Guardate Il tempo Bellissimo Ok stiamo Vincendo noi Per adesso Merda Via 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 Mi vibra Mi vibra Ok Partita vincitore Ragazzi Così a caso No vabbè Abbiamo vinto 40.000 dollari Perché ci sono Doppi soldi E doppi RP Ma io quasi quasi Ragazzi Ve ne porto un altro I vincitori Sono gli angeli Guardate l'angelo Che manda Affanculo È qualcosa Di bellissimo Vabbè ragazzi Io ve ne voglio portare Assolutamente un altro Dai oggi Extra per voi Come speciale Weekend Halloween Dai Perfetto Ripartiamo Da angeli Purtroppo Voglio essere il demone Ma mi fa sempre Fare l'angelo Ma perché Sta cosa Devo avere Sta faccia Da coglione Perché Sta maschera Mi fa troppo Ridere Perché Perché No vabbè Non lo so Non lo so Raga ma Sta maschera Mi fa troppo Ridere Guardate Un bambolotto Proprio Allora Troviamo Sti demoni Una volta E per sempre Facciamoli fuori Dove siete Dove siete Oh Attenzione Qua si può camperare Nella grande Dove siete Uh uh Attenzione Guardali I demoni Che scappano Dove andate Avete paura Guardali Come scappano Guardali Vieni qua Demone Uno Due Tre Mamma mia Tripletta Proprio Ok Cazzo Adesso è la notte Guardate No vabbè Bellissimo Ragazzi Voglio questa atmosfera Il giorno di Halloween Guardate Che figata Mamma mia No vabbè Una cosa assurda Guardate Che figata No Bellissimo Bellissima La notte Ragazzi Bellissima Guardate Che figata Mamma mia Che culo Guardali Dove stavano Tutti Volevi Appazzarmi No Quanto l'amo Sta modalità Ragazzi Finalmente Una bella modalità Tipo L'ultima Che è uscita Con il DLC Centauri Sì È figa La fai una volta Però poi Ti rompi Le bolse Proprio A farla Sempre Guardalo Dove vai Dove vai Guardalo Che vuole Scavalcare Guarda Che scappa Proprio Il demone Il demone Fuggitivo Merda Merda Via 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 Ora Si vendica Questa Ora Mi spacca Il culo Questa 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 Atmosfera Ok Mi sta vibrando Il joystick Mi sta vibrando Il joystick E c'è Il demone Merda Vaffanculo Ok Mi sta vibrando Il joystick Dov'è Il demone Attenzione Il demone Incazzato Dov'è Attenzione Che cazzo vuoi fa Oh Ehi Oh Guardalo Che mi ammazza Cazzo Guarda Sto demone No Vabbè Che presa Male Cazzo Eppure notte Mi sta vibrando Tutto il mondo Via 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 Da qua Via Da qua Via Da qua Via Da qua Merda Merda Eccoli 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 Via 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 Eccoli Un altro No 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 Qua mi fottono Raga Qua mi fottono Qua mi Inculano Aiuto Merda Merda Dove siete Dove siete Mamma mia Mi ha fatto prendere paura Eccoli 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 Muori Intanto Continuo a vibrarmi Ce n'è uno Qua nelle vicinanze Uh Uh Dove vuoi andare Attenzione Guarda Questo E muori Non muore Raga Ma che cazzo è Aiuto E muori Mamma mia E che cazzo Ecco E vaffanculo No Vabbè Bellissimo Bellissimo Uh Uh Guarda Lascia il fuoco Lascia Lascia di fuoco Il demone E muori E muori Guarda Gli angioletti Attenzione Muori Sì L'ho ucciso L'ho ucciso Anche se Mi ha fatto fuori Pure lui Però l'ho ucciso Non mi interessa Sta scadendo il tempo Sta scadendo il tempo Ammazziamolo Guarda come brilla No Vabbè raga Abbiamo vinto sicuramente Dai Uh Guardalo 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 che non mi vede Ma che cazzo è Sto qua Vediamo Partita vincitore Grande così Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere la vostra Riguardo questa modalità Competizione Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Se volete vedere Gli altri contenuti Di Halloween Vi ho fatto un video Lo scorso video Troverete tutto Nel mio canale Mi raccomando Iscrivetevi Passate dalla mia pagina Facebook E soprattutto Inviatemi La richiesta di amicizia Noi ci vediamo Al prossimo video E ciao a tutti